Il suo lavoro è il suo lavoro Posso lavorare? Eh, domani penso che magari un po' di riposo perché mi chiede fa male Che cazzo mi hai i soldi? Vieni da me Gli regali i soldi Presenza di rumori squittiti, larve e rumori di adulti intervenire immediatamente Sì, sì, abbiamo un salone grande, sì facciamo un bed and breakfast e facciamo un bed and breakfast Ti dirò che l'hanno usata talmente tanto che probabilmente qualcosa ha perso ha perso, sì Probabile è proprio una stupidà però a noi che siamo una vita dentro l'acqua noi non ci interpellano mai non importa mai nessuno vero le? Che dici le? Va bene così? Ma andiamo avanti che ci vorrei grazie a tutti Grazie a tutti.